Interviene ora per un minuto e mezzo l'onorevole Panzeri. Voltando definitivamente pagina da parte dell'Unione Europea nell'approccio con questi Paesi. Ora bisogna dimostrare coerenza e non schizofrenia nell'implementazione di questa politica di vicinato. Sarebbe assurdo e comunque colpevolmente parziale se questa politica si limitasse solo a chiedere più diritti e più democrazia a questi Paesi, dimostrando sordità su tutto il resto, a partire dalle questioni economiche e commerciali. Diritti e democrazia si sostanziano, lo abbiamo detto continuamente, anche e soprattutto attraverso una rinnovata politica economica e finanziaria capace di sollecitare lo sviluppo di questi Paesi. Democrazia e sviluppo economico e sociale sono un binomio inscindibile. L'accordo con il Marocco si inserisce in questo contesto e vuole e deve favorire una convenienza reciproca sul terreno del libero scambio e del processo di integrazione della Regione Mediterranea. Mi preoccupa il protezionismo alla Beauvais, perché anziché aiutare lo sviluppo del processo democratico e dei diritti in questi Paesi, ne diviene in realtà un ostacolo oggettivo. Per tutte queste ragioni è importante l'approvazione di questo accordo da parte del Parlamento europeo ed è ciò che mi auguro avvenga domani. Grazie. L'anno scorso la Commissione Petizione del Parlamento ha sollecitato alla Commissione europea una modifica per quanto riguarda il regime dei prezzi d'entrata.